Ora di pranzo raga, oggi l'ho contate così perché ho cucinato questo per tutti e due quindi ho scritto spezzatino di manzo con sono tipo 4 pezzettini raga cioè assaggiamo, come amo? non ho messo un torio ho messo tantissime cipolle bellissimo, morbido ok come verdure, cipolle pane e carne e le cipolle raga sono verdure ecchi che sono frutta sono verdure poi magari pensano che usino le cipolle come verdura oh wow si rompe proprio buon pranzo un callo per cucina su cosa raga si chiama la carne buono sono andata in ufficio stamattina raga poi sono tornata e ho cucinato questo il king ha tornato a lavoro e ha trovato questo buon pranzo e ci vediamo su G per le calorie ciao raga grazie a tutti grazie a tutti